Risultati straordinari per l'Eima International, la rassegna mondiale della meccanica agricola tenutasi nel quartiere feristico di Bologna. Risultati straordinari per l'Eima International, la rassegna mondiale della meccanica agricola tenutasi nel quartiere feristico di Bologna dal 19 al 23 ottobre. L'esposizione ha spazzato via ogni incertezza legata all'emergenza sanitaria e si è imposta con numeri eccezionali. I dati certificati diffusi da Federuna Coma, l'associazione dei costruttori italiani che organizza la manifestazione e Bologna Fiere indicano 270.700 visitatori, di cui 25.900 esteri, nonostante la defezione di espositori e visitatori da alcuni paesi che sono ancora in emergenza sanitaria. Un pubblico di qualità, composto in gran parte da operatori economici, interessati alle novità di prodotto e all'acquisto di tecnologie adatte ai più diversi contesti agricoli, che hanno potuto conoscere anche le tante realtà pugliesi presenti alla manifestazione. Sorella maggiore di Agri Levante, l'esposizione di Bari dedicata a macchine agricole, impianti e tecnologie per la coltivazione del terreno, che guarda soprattutto al bacino del Mediterraneo. Esposizione non solo, molto ricca anche la parte culturale della rassegna, con un totale di 116 convegni e seminari su temi tecnici e politici. Un risultato ben oltre le aspettative che fa di Eima un evento top a livello internazionale, non soltanto nello specifico settore della meccanica agricola, ma nel panorama delle fiere in senso assoluto. La prossima edizione è in calendario dal 9 al 13 novembre 2022, quando la città di Bologna sarà pronta ad accogliere ancora una volta il grande popolo dell'Eima. Ascoltiamo Alessandro Malavolti, presidente di Federuna Coma. Eima è tornata in presenza dopo tre anni di assenza da Bologna e due anni di assenza dalle più grosse manifestazioni internazionali. Finalmente siamo riusciti a rincontrare i nostri agricoltori, i nostri contotersisti, i nostri distributori, importatori e anche tanti amici in questo settore. Abbiamo fatto vedere tantissime novità tecniche e stiamo facendo vedere tantissime novità tecniche, soprattutto legate all'agricoltura 4.0, alla robotica nel nostro settore, alla gestione dell'acqua, ma anche tante piccole chicche che tutte le nostre aziende hanno prodotte in questi due anni, due anni e mezzo di pandemia. Il successo di pubblico è stato buono, siamo molto soddisfatti, soprattutto della qualità dei visitatori che hanno riempito i nostri padiglioni. Siamo la seconda fiera più grande del mondo nel campo della meccanica agricola e anche questa edizione è stata un buon successo.